Io sono il professor Felice Di Gregorio, vengo da Cagliari, dall'Università di Cagliari e sono incaricato appunto di coordinare i lavori di questa nostra sessione. Abbiamo previsti ufficialmente sei interventi, sinora sono presenti cinque dei sei relatori. Immagino che uno dei relatori, il quinto in particolare, possa arrivare ancora e quindi abbiamo un tempo per inserirlo eventualmente. Io direi di dare avvio alla nostra sessione dei lavori, che dovrebbe concludersi per le ore 11. Ricordo ai relatori che hanno a disposizione dieci minuti. Cercheremo di fare immediatamente dopo la presentazione eventuali domande ai relatori. Un paio di minuti a disposizione, insomma, vedremo un po' come sarà l'andamento del tempo. E quindi ricordo ancora ai relatori di firmare la liberatoria per le riprese dell'immagine, da coloro almeno che non lo hanno già fatto. Detto questo, chiuse le formalità, posso andare brevemente alla presentazione del contenuto della nostra sessione che riguarda appunto la cartografia ufficiale e amministrazione del territorio. Insomma, sono problemi vecchi e nuovi che si pongono. Ovviamente la cartografia ha subito negli ultimi anni una rapidissima evoluzione, direi, con contenuti fortemente innovativi, con sistemi nuovi, con una qualità dell'informazione che è cresciuta sensibilmente a disposizione evidentemente delle amministrazioni che a volte non hanno adeguatamente potuto, diciamo, aggiornare le professionalità per poter gestire la ricca messa di informazioni che poi gli nuovi strumenti, le nuove metodologie, ma anche le diverse amministrazioni nazionali e regionali mettevano a disposizione. Insomma, è in rapido di venire tutto questo tema e quindi, insomma, dobbiamo riconoscere che rispetto agli ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti un po' dappertutto e ci sono nuovi metodi, nuovi strumenti, nuovi dati che sono a disposizione appunto per gestire meglio il nostro patrimonio ambientale e culturale. Brevemente, i temi che avremo, che saranno trattati riguardano appunto una piattaforma, Plattaforma GIS Code 151, che sarà la prima delle relazioni, che è inerente appunto a una piattaforma flessibile, diciamo, e adattabile a diverse realtà amministrative e realtà tematiche, di cui appunto il primo relatore, Iroldi, ci presenterà e ancora ci sarà questo tema della validazione della mappa europea delle aree impermeabili ad alta risoluzione a livello locale. È un tema sicuramente, insomma, che interessa molto evidentemente alcuni specialisti, però una mappa, diciamo, delle aree impermeabili ad alta risoluzione, interessa un po' tutti noi, a me in particolare, che così lavoro nel campo delle scienze della Terra, è una mappa ad alta risoluzione a scala europea, è un aspetto particolarmente interessante e significativo. Ancora l'altro tema riguarderà gli aspetti della innovazione digitale nelle pratiche di gestione del territorio a proposito del rapporto tra cittadini e comuni. Insomma, ecco, qui si pone da un lato l'esigenza dei comuni di gestire le informazioni che loro hanno a disposizione nei loro archivi o le altre che vengono in qualche modo di volta in volta messe a disposizione. Poi si parla anche delle esigenze, questo tema è poco sviluppato anche dal mondo dell'università, insomma, dal mondo degli addetti lavori, del rapporto tra gli enti, le istituzioni, i cittadini. Anche il governo, come sapete, con l'agenda digitale sta facendo dei grossi passi in avanti. Ci sarà un'innovazione veramente formidabile, direi, ma è bene per funzionare questo sistema dell'innovazione. Per funzionare ha bisogno, da un lato, degli attori, che sono dalla parte della pubblica amministrazione, dalla parte del mondo della ricerca e dall'altra parte che anche i cittadini siano aggiornati, siano correttamente informati, abbiano anche, e dico, gli strumenti, la capacità di usare questi sistemi, di poter accedere a questo mondo della informazione che oggi è veramente formidabile. Quindi di questo ci parleranno appunto nella relazione numero tre che abbiamo. La quarta relazione riguarderà le banche dati gearcheologiche della Laguna e della città di Venezia. Anche qui un po' sapete c'è una gran messa di informazione a disposizione, diciamo, dei ricercatori, delle soprintendenze, delle pubbliche amministrazioni. E' bene che questa informazione sia poi messa a disposizione anche qui di tutti i soggetti che operano nel territorio, e quindi queste banche dati che comunque finalmente cominciano anche a circolare. Io ho l'esperienza della nostra regione che negli ultimi anni ha messo in linea una ricca messa di informazione un po' in tutti i campi, dalle foto aeree, ortofoto di varia epoca, fino alle informazioni relative appunto agli aspetti archeologici, floristico-vegetazionali, faunistici. Ecco, ora si può attingere, si può fare tantissimo. Io ricordo, io opero nel campo della ricerca, ricordo la difficoltà di accedere alle informazioni da parte dei giovani, da parte di noi stessi ricercatori, ma anche per contribuire ad arricchire questo patrimonio, perché se non ci sono le informazioni di base, e so chi fa la foto interpretazione, è come può lavorare per costruire nuove informazioni per arricchire. Oggi, grazie a Dio, ecco, è cambiata anche un po' la modalità, è l'approccio un po' di tutti, per cui, ecco, si può disporre di tante cose per arricchire, diciamo, questo patrimonio informativo. L'altra relazione, però, non so se sono arrivati i relatori, riguarda appunto una ricerca di un optimum sull'aggiornamento della carta tecnica regionale numerica e del database geografico presso il BIM dell'Adice della provincia di Verona. Non so se arriveranno i relatori, ecco, questa sarebbe la relazione numero 5, sono molti i relatori, spero che qualcuno di loro arrivi per presentare un po' questo, diciamo, questo tema che riguarda l'aggiornamento dei dati, insomma, perché ormai di dati, diciamo, ce ne sono tanti, ma i dati hanno bisogno di essere gestiti, continuamente i dati vengono aggiornati e occorre, appunto, metterli a confronto con i dati preesistenti e vedere in qual modo, evidentemente, poi, possono essere, nel migliore di modi, aggiornati e resi disponibili, appunto, per gli utilizzatori. L'ultimo tema, l'ultima relazione, riguarderà, diciamo, un aspetto leggermente diverso, non tanto legata ad un monitoraggio, diciamo, scientifico, ma ad un monitoraggio, diciamo, sotto il profilo antropico, socio-economico di un'emergenza, in particolare quella dell'Aquila. Diciamo, un tema che a me interessa molto, ce lo presenta un giovane geografo dell'Università di Roma, mi interessa molto perché sono uno di quelli che è stato colpito direttamente dal terremoto, essendo io nato in un paesino vicino l'Aquila, un paesino di montagna, avendo io la casa assolutamente ancora inagibile, insomma, nel mio paesino non è partito ancora nulla di tutto ciò che in qualche modo era stato promesso. Bene, questi sono i nostri temi, adesso io darei via al nostro primo relatore che ci parlerà, appunto, della piattaforma, la piattaforma Giscode 151. Prego. Grazie, professore. 10 minuti. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che sicuramente il professore oggi ha già elencato in una checklist una serie di temi che ritengo molto importanti, nel senso che abbiamo parlato di basi dati, abbiamo parlato di cittadini PA, abbiamo parlato di aggiornamento di banche dati, abbiamo parlato di una serie di temi che secondo me sono oggi disponibili con una serie di tecnologie. Forse è peccato che le tecnologie arrivino un po' tardi rispetto a quelle che sono oggi i temi di tagli e ritagli della nostra amministrazione, però diciamo sicuramente stiamo, i software ci permettono di fare alcune cose che tempo fa erano molto complicati e difficili. Per cui, diciamo, io oggi sono qui a rappresentare l'azienda da Abitalsit, sono Fabio Iroldi. Abitalsit è un'azienda che nasce nel 1997 e si dedica in tutti questi anni qua a realizzare, diciamo, cercando di dargli un nome, a livello sartoriale i sistemi informativi territoriali. Per cui andiamo a gestire tutte quelle che sono informazioni cartografiche e alfanumeriche e le andiamo a mettere in disposizione sia dell'ente pubblico per cui i vari uffici. Poi cercare di distribuire il dato, perché è una cosa importante e fondamentale che il dato sia fruibile da tutti in modo semplice, perché negli anni passati, nei tempi passati il problema era cercare di far capire, di far gestire a tutti, di far usare a tutti un dato che serve, che però è disponibile a pochi. Per cui l'ufficio SIT piuttosto che l'ufficio cartografico il dato è di proprietà dell'ufficio cartografico, se qualche altro ufficio ne ha bisogno, bisogna fare carte false per avere un dato che è già disponibile all'interno dell'enter. Per cui diciamo che cercare di divulgare le informazioni nel modo più semplice possibile. Dopo il rapporto PA cittadino, per cui diciamo l'applicazione che andremo a fare, la piattaforma che cercherò di illustrarvi, anche se il tempo non è tantissimo, è web orientale, per cui diciamo è basata su web, per cui può essere già disponibile e fruibile anche dal cittadino, per cui diciamo tutto quello che avviene al rapporto ente pubblico cittadino è disponibile in rete con un accesso semplice e diciamo è mirato a risolvere alcuni temi dedicati al cittadino, dalla segnalazione di alcune cose sul territorio fino alla ricerca e gestione della banca dati che serve o al cittadino, diciamo parliamo di professionisti, logicamente parlavamo prima di professionisti che quotidianamente dovremmo avere l'ultimo dato per cercare di poter analizzare al meglio quello che devono proporre in ambito territoriale, per cercare di che anche il professionista abbia l'ultimo dato aggiornato. Per cui l'azienda si propone come un partner tecnologico che mette insieme una serie di informazioni e crea un unico contenitore che possa mettere a supporto di chi deve gestire e anche prendere decisioni se all'interno dell'ente pubblico che all'esterno possa farlo con piena consapevolezza che il dato disponibile è l'ultimo e non è quello di 5 anni fa, 10 anni fa. Per cui Abita City ha creato una piattaforma che abbiamo chiamato Platform GIS, marchio registrato, che permette appunto attraverso strumenti sia open source che attraverso strumenti marchiati da aziende che probabilmente conoscete benissimo anche voi, per cui parlo di Autodesk, piuttosto che di Oracle, piuttosto che diciamo altre aziende che creano software dedicati alla gestione del territorio. Dopodiché Abita ci ha messo la propria disponibilità nell'ambito dei servizi per cercare di vestire tutte quelle informazioni che abbiamo a disposizione e che ha a disposizione lente perché siano fruibili dati, per cui crea l'applicazione. Per cui realizziamo servizi, realizziamo consulenza e mettiamo a disposizione la qualità della professionalità, nonché un pizzico di passione che serve sempre, perché diciamo dal 97 che facciamo questo lavoro, abbiamo cercato di farlo anche con compassione. A tutto questo è attaccato logicamente servizi di formazione, piuttosto che di consulenza, piuttosto che di assistenza. Quindi cerchiamo di essere un'azienda a tutto tondo. Però andiamo a parlare di quello che è l'argomento. L'argomento è Platform GIS, che al suo interno ha praticamente quattro soluzioni che vanno a risolvere tematiche diverse legate al mondo della PA e con Platform PA, nel mondo del multi-utility con PlatformNet, nel mondo dell'agricoltura con PlatformLand e nel mondo di geomarketing con PlatformGeo. Per cui sono tutti temi che hanno un unico come un'unica base, che è quella di essere una soluzione WebGIS ed è prodotta da AbitaSit, per cui va a essere così anche nel futuro mantenuta da questa azienda, però diamo la disponibilità e la possibilità comunque sia anche all'ente pubblico o alle aziende a cui viene fornito questo strumento, di poter essere autonomi nella fase di personalizzazione e caricamento delle banche dati. Comunque è un prodotto che AbitaSit realizzato nel tempo, diciamo che non si è svegliato nessuno una mattina e ha deciso di realizzare qualcosa, ma è una cosa che è stata maturata con il tempo, per cui diciamo con una maturità tecnica e conoscitiva che nasce dal 1997 in poi. Quindi diciamo che abbiamo cercato di realizzare un prodotto che comunque fosse il risultato di anni di esperienza. per cui diciamo è una famiglia di prodotti, non solo un prodotto, ma rappresenta il punto di cresso per poter gestire il territorio in modo fruibile da tutti, perché come amministratore di questa azienda sostengo che la fruibilità del dato deve essere facile per tutti, il dato non deve essere una cosa di proprietà di qualcuno o disponibile solo a qualcuno perché ha delle conoscenze particolari, perché ha avuto uno studio particolare o perché è riuscito a farsi diciamo di suo una conoscenza, ma deve essere qualcosa che è disponibile a tutti perché è patrimonio di tutti e deve essere diciamo così sfruttato da chi ne ha bisogno. All'interno diciamo logicamente delle piattaforme possiamo andare a gestire dati che sono disponibili, per cui diciamo ritorno sempre a quello che siamo prima professori, diciamo che oggi ci sono disponibili nella rete diverse informazioni che prima erano diciamo così lasciate, diciamo avevano un mondo a parte, per cui diciamo nell'applicazione posso andare a gestire dati che provengono da Street View piuttosto che da Google Earth, piuttosto che essere a disposizione diciamo con dei plugin dal mondo di Blom con le foto diciamo tridimensionali. Per cui diciamo cerchiamo di sfruttare anche tutto quello che è il mondo esterno di informazioni dati, per cui diciamo ho visto situazioni in cui diciamo uno doveva prendere una soluzione perché aveva la cartografia nel suo desktop GIS piuttosto che andare a vedere dopo con Street View che magari la situazione era cambiata rispetto ai dati che aveva, perché aveva due soluzioni aperte dove cercare di capire esattamente dove si trovava, cosa doveva fare, invece in questo modo qua cerchiamo di sovrapporre due informazioni per cui uno si trova in una situazione che magari ha nel suo interno perché non ha avuto tempo di ragionare i dati, però nello stesso tempo può visualizzare una situazione magari attuale e poter prendere una decisione comunque sia ponderata con le informazioni che sono disponibili nella rete. Quindi cercare di far sì che il mondo diciamo dei dati sia sempre più così, possa colloquiare in maniera semplice e con un prodotto diciamo altrettanto facile. Per assumere con delle schermate diciamo qui abbiamo una cartografia che è rappresentata in platform GIS e dopodiché abbiamo Street View che viene diciamo sovrapposto, qui posso visualizzare entrambe le configurazioni. Lo stesso vale per Google Earth nel senso che avrò a disposizione all'interno diciamo della mia piattaforma la possibilità di prendere dentro i dati che stanno all'interno diciamo dei dati disponibili e potrò diciamo metterli sotto alla mia cartografia. Logicamente come diceva il professor prima, due slide, come diceva il primo professore abbiamo sempre più a disposizione tecnologia, per cui diciamo anche la piattaforma che abbiamo realizzato logicamente tiene conto di questo, per cui stiamo andando verso, siamo già andati verso soluzioni legate all'infomobility per cui iPad, iPhone, Windows Mobile, tutto quello che può essere di supporto, d'aiuto per chi è fuori sul territorio e deve prendere delle decisioni comunque sia. Per cui deve avere la disponibilità dei dati che sono presso l'azienda e disponibilità dei dati che lui sta vedendo in quel momento. Per cui cercare di poter sia verificare che comunque sia aggiornare le informazioni, perché oggi i prodotti che pur viaggiando sotto l'aspetto diciamo dell'infomobility, per cui i web, devono avere la possibilità di poter inserire delle informazioni direttamente sull'iPhone piuttosto che l'iPad, per cui diciamo cercare di differenziare al massimo tutte le informazioni di cui ho a disposizione. Per cui per fare un esempio di platform net dove diciamo ho delle società di molti utili, dove c'è il manutentore che comunque sia il soggetto che più di tutti sta nel territorio e sicuramente quel soggetto che rispetto ad altri verifica e tocca con mano che l'oggetto di cui sta facendo la riparazione non è a 5 metri ma è a 3 metri da un altro oggetto, magari è giusto che in quel momento identifichi già in un supporto informatico che quell'oggetto è diverso da quello che è stato segnalato o in cartografia attuale, per cui diciamo può fare lui la manutenzione dei dati che dopo saranno validati dai responsabili della cartografia, questo è l'altro dato importante che ci deve essere qualcuno che comunque sia valido al dato, però ci vuole qualcuno anche che metta il dato in maniera semplice e informale in quel momento là, però di avere la possibilità a qualcuno di avere già l'informazione che il dato non è corretto. Poi cerca di far sì che tutto quello che viaggia all'interno dell'ente sia quotidianamente segnalato e dopo ci sia un referente che dopo di che valida l'informazione, però che perlomeno sia segnalato, per cui se su qualcun altro va a fare un intervento in quel luogo però non c'è stato il tempo di realizzare la cartografia ufficiale e aggiornare in maniera ufficiale, possa comunque avere l'indicazione che quell'oggetto là non è più lì ma è in un altro posto. Questo è diciamo quello che come azienda crediamo che sia importante che le informazioni viaggino in maniera diciamo molto semplice fra tutti i fruttori dell'aspetto cartografico. Possiamo andare a chiudere? Possiamo andare a chiudere? Sì, qui diciamo che tutto quello che fa abitato è quello di cercare di mettere insieme tutte le informazioni che sono a disposizione dell'ente e di mettere in un unico contenitore per far sì che tutti possano fruirle in un determinato modo. Io ho concluso, ringrazio della vostra attenzione, sono a disposizione comunque sia nell'area stand che in questo momento. Grazie mille. Grazie a lei. Approfittiamo, io coinvolgo appunto i presenti che voglio salutare, ai quali do il benvenuto. Se ci sono delle domande approfittiamo un paio di minuti se c'è qualche domanda. Nessuna domanda? Allora per rompere il ghiaccio ne faccio una io. Siccome mi sembra un po' qualcosa di nuovo che muove nel senso che dicevamo prima, voi avete già un'esperienza sul campo mi pare più che decennale. Qual è la risposta dell'utenza pubblica o privata rispetto alla vostra offerta? Diciamo che attualmente c'è molta conoscenza e molto interesse. Diciamo che come dicevo inizialmente ha fatto quella specie di cappello introduttivo che secondo me arriviamo in un momento un po' complicato, nel senso che sicuramente ci sono cose che vengono viste con più importanza rispetto a una gestione diciamo intelligente dell'aspetto cartografico. Anche se sicuramente non è da sottovalutare, però per alcuni viene vista in maniera importante per diciamo, adesso non voglio andare nell'aspetto prettamente politico, però l'amministratore sicuramente fa un po' più fatica a capire quali sono le tematiche, le problematiche legate al mondo della gestione del territorio. Cioè potrebbe essere più semplice fare una cosa che ha più visibilità rispetto a... In concreto il mercato per un'azienda comincia ad essere... C'è ancora, diciamo che ci siamo un po' inventati tutti a fare GIS, però c'è ancora del mercato. Sicuramente va gestito in maniera un po' più diciamo seria di quello che viene gestito in questo momento qua, però sicuramente c'è ancora del mercato. Va sensibilizzato sicuramente l'opinione pubblica e specialmente gli amministratori sul fatto che c'è bisogno comunque sia di gestire il territorio. Logicamente gli investimenti sono cambiati perché prima dovevi investire molto di più per fare un prodotto che oggi sicuramente richiede meno investimento. Però va creato un processo più che prendere un software piuttosto che altro. Grazie. Allora possiamo passare alla seconda relazione. Abbiamo come relatore appunto l'ingegnere Menafo, che prego accomodarsi al microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Michele Munafo di ISPRA. Questa è una presentazione che facciamo in comune con altri colleghi, in particolare Vito De Pasquale, Daniela Agliasillo e Enzo Barbieri di Planet Italia. Il lavoro è proprio quello di andare a proporre una metodologia di validazione di una mappa europea, come già accennato in precedenza in fase di presentazione di questo intervento, delle aree impermeabili ad alta risoluzione a livello locale. In particolare quali sono gli obiettivi che in questi dieci minuti che ho a disposizione cercherò di affrontare? La verifica dell'utilizzo di questo strato informativo europeo, che nasce per l'appunto con esigenze europee, quindi con interessi a livello continentale, per la valutazione del fenomeno del consumo del suolo a livello comunale in Italia, quindi l'utilizzo di un dato europeo a livello locale, con eventuali limiti che andremo a evidenziare. Questa validazione verrà fatta attraverso l'utilizzo di altri strati informativi, in particolare quello che è una parte della rete di monitoraggio che Ispra conduce annualmente e in particolare sulle principali aree urbane nazionali. Un breve accenno a quali sono le fonti informative utilizzate, quindi diamo alcuni dettagli informativi. Intanto in quale programma ci... diamo il contesto del programma europeo nel quale vengono prodotti questi dati, che è il programma GMS, Global Monitoring for Environment and Security, che prevede una serie di aree di lavoro, tematiche, tra le quali c'è l'area legata al land, quindi al territorio. Nell'ambito dell'area legata al territorio sono comunque definiti una serie di servizi di monitoraggio che sono sviluppati e implementati attraverso diversi progetti finanziati direttamente dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea. Qui ne vediamo citati alcuni. Per quanto riguarda i servizi di GMS Land, quelli che citiamo qui sono quelli sulla qualità delle acque, sul monitoraggio delle foreste, monitoraggio agroambientale, parametri biofisici e in particolare l'Encover e l'Endius, che saranno oggetto di questa presentazione, perché tra gli altri prodotti che vengono forniti all'interno dei servizi legati all'Encover, l'Endius, sono presenti cinque strati informativi a livello continentale ad alta risoluzione. Questi cinque strati informativi informativi sono relativi alle superfici artificiali e in particolare all'impermeabilità dei suoli, con un gradiente che va dallo 0 al 100%, alle aree forestali, in termini sia di densità di copertura forestale che di tipo di foreste, le aree agricole, le aree umide e corpi idrici. L'interesse di questa presentazione è, come già accennato in precedenza, il primo di questi strati ad alta risoluzione, cioè l'impermeabilità dei suoli. È un prodotto che ha queste specifiche che vedete sinteticamente elencate in questa diapositiva, in particolare abbiamo detto che la classificazione avviene con un gradiente da 0 al 100 del grado di impermeabilità, vengono anche derivate delle cosiddette mappe di built up, dell'edificato, che sono derivate da questo primo prodotto. Viene definita l'impermeabilizzazione dei suoli come una superficie che non può essere penetrata dall'acqua in generale, quindi superficie coperte da asfalto, cemento o altri materiali impermeabili. I dati di input sono diversi, in particolare qui facciamo riferimento a quelli che sono i prodotti relativi al 2006 e al 2009. Le specifiche del prodotto di uscita è quello di avere un raster a 20 metri di risoluzione spaziale in cui l'informazione è riportata a livello di singolo pixel e la validazione viene effettuata a livello di un ettaro, ma l'informazione è comunque a livello di 20 metri per 20 metri con una minima unità quindi di 400 metri quadri. È un prodotto che nasce principalmente a supporto del reporting ambientale europeo, quindi lo stato dell'ambiente, il prodotto realizzato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, ma anche per altre esigenze che qui vedete sinteticamente illustrate. Qual è la metodologia per derivare queste informazioni? Sono informazioni che ovviamente derivano da telerilevamento, da earth observation, parzialmente in parte con una procedura automatica e in parte con invece una procedura non automatica. La parte automatica prevede l'elaborazione iniziale dell'NDVI, quindi dell'indice, un noto indice, viene derivata utilizzando lo strato del 2006 e poi quindi del 2009 per i cambiamenti. A questo punto poi c'è un'attività più manuale, più di controllo visuale dei dati alla ricerca di errori nella procedura automatica che conduce alla realizzazione della mappa finale. È in corso l'aggiornamento al 2012. Nel 2012 sono previste anche ulteriori novità e quindi una procedura in generale di miglioramento ulteriore della mappa indipendente dal processo di produzione, oltre alla validazione che è sempre stata fatta anche negli anni precedenti a cura di enti indipendenti. La copertura come vedete è molto ampia, quindi copre di fatto tutti i paesi europei e qui riportiamo alcuni esempi di aree urbane nazionali con una classificazione qui più semplificata con alcune, poco meno di dieci classi, otto classi se non vado errato, del territorio comunale di Roma, qui vediamo un esempio sull'area di Milano e un esempio sull'area di Napoli. Quindi come vedete è una cartografia che ha delle possibilità di utilizzo veramente interessanti anche a livello locale, perché il livello geometrico, oltre che tematico della classificazione, è effettivamente molto interessante e adatto per analisi cartografiche a livello locale. Come accennato già in precedenza, è un dato molto utilizzato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, è un dato che viene pubblicato gratuitamente, quindi già scaricabile per le edizioni precedenti e così sarà per il 2012, che dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno prossimo o tutt'al più all'inizio del 2014. E attualmente, vi dicevo, è disponibile al 2006 e al 2009. Questa è una presentazione che nasce in collaborazione tra ISPR e Planetech, perché Planetech è la società che sta portando avanti, che ha sviluppato il dato negli anni precedenti e sta sviluppando il dato nel 2012, quindi vincitrice di una gara europea per questo. ISPR è stato indicato come ente responsabile per l'Italia, ovviamente, come stato membro per la validazione e il miglioramento dei dati a livello nazionale. Alcuni dati di sintesi per capire un po' quali sono le possibilità di utilizzo di queste informazioni. Qui vediamo un confronto fra i diversi stati membri dell'Unione Europea. Ovviamente questo è un dato che, a causa della sua omogeneità e standardizzazione a livello europeo, ben si presta a fare confronti fra le diverse aree nazionali, diversi stati nazionali. E quindi sicuramente rende in grado un osservatore o un decisore qualsiasi di valutare effettivamente quali sono le differenze tra un paese e l'altro. E qui vediamo che l'Italia non se la passa un gran che bene, se vogliamo essere sinceri, perché qui spero che sia leggibile anche se i grafici sono un po' piccoli. Sulla sinistra vediamo l'incremento delle aree impermeabilizzate nel 2009 rispetto al 2006. In chilometri quadrati per nazione vediamo che l'Italia ha questo triste primato che è tutt'altro che da invidiare. Un po' meglio va per l'incremento delle aree impermeabilizzate se le rapportiamo in percentuale rispetto alla superficie nazionale, anche se poi andando a vedere effettivamente i pochi stati che ci superano in questa classifica, se vogliamo chiamarla così, sono stati con estensioni territoriali decisamente più piccole, quali Cipro, Malta, Macedonia e così via. Quindi effettivamente vediamo che l'Italia non se la passa un gran che bene, ma questo forse potevamo anche immaginarcelo, basta girare per il nostro territorio per vedere una dispersione di insediamenti, di infrastrutture, di capannoni industriali che tutti noi vediamo. Questa zona tra l'altro in cui siamo ospitati è un esempio tipico. Bene, la validazione è stata quindi come accennato in precedenza condotta attraverso il confronto con una serie di dati, chiamiamoli in situ, per seguire la denominazione europea e in particolare sono stati utilizzati i dati derivati e pubblicati sul rapporto della qualità dell'ambiente urbano, un rapporto che esce annualmente, quest'anno ottobre è stata presentata l'ottava edizione, che è finalizzato proprio alla valutazione della qualità dell'ambiente urbano sulle principali aree urbane nazionali. Un lavoro condotto da Ispra in collaborazione con il sistema delle agenzie ambientali, ARPA e APPA in Italia, e produce una serie di indicatori su varie tematiche, tra le quali è particolarmente approfondito il tema del consumo del suolo. All'interno del rapporto sono riportati una serie di indicatori, qui vediamo alcune mappe di sintesi, su una cinquantina di comuni nazionali, tra gli altri sono riportati indicatori direttamente confrontabili con i dati che abbiamo visto essere derivabili da queste informazioni della mappa europea. E quindi un primo confronto è stato effettuato a livello di indicatori statistici di base, quindi a livello comunale, qui vediamo un confronto fra quelli che sono i dati provenienti dalla rete di monitoraggio di Ispra e del sistema agenziale, che prevede per l'appunto un monitoraggio puntuale di un punto, quindi a scala decisamente più di dettaglio rispetto a quella europea, con la derivazione di stime che sono anche statisticamente valide e significative, adesso non entro qui nel merito della cosa perché il tempo a disposizione non è sufficiente, ma vi invito eventualmente a consultare anche questo rapporto che Ispra mette a disposizione e che è disponibile sul web, in ogni caso questo primo confronto già fa capire come ci sia una coerenza di fondo piuttosto significativa fra questi due strati, anche se ci sono alcuni elementi che lasciano qualche dubbio di interpretazione, in particolare per alcune aree urbane. Questo può dipendere da diversi fattori, parzialmente ma solo parzialmente da una differenza a definizione del fenomeno che stiamo analizzando, perché la metodologia di produzione dei dati è ovviamente diversa e la definizione stessa delle aree impermeabili è leggermente diversa perché alcune classi di copertura del suolo sono considerate non impermeabili a livello europeo e impermeabili a livello nazionale, ma sono classi comunque di estensione molto limitata, faccio riferimento almeno a termini nazionali, a livello locale invece la consistenza potrebbe essere un po' diversa e sono le classi in particolare delle cave, quindi sono in chiusura, un minuto e chiudo, e di alcune aree di cantiere, ma insomma complessivamente nel livello nazionale non è questo quello che fa la differenza, ma la differenza è leggibile attraverso questa analisi di cross-correlazione fra i due strati informativi. Come potete vedere, qui sono riportati sulle ascisse e sulle ordinate rispettivamente i dati dello strato ad alta risoluzione e quelli della rete di monitoraggio, sono riportati per la semplicità di lettura ai dati suddivisi in dieci classi, ma ovviamente questo è un confronto che è stato effettuato per ogni grado di impermeabilità da 0 a 100, e come vedete c'è una correlazione piuttosto elevata, mostrata dalla retta nera, che addirittura ha un R quadro di 0,95, quindi una correlazione molto molto buona tra i due strati, ma quello che fa pensare è l'inclinazione di questa retta nera, perché il coefficiente di inclinazione è 0,7, quindi in realtà anche se c'è una correlazione molto elevata, questa inclinazione della retta è un po' troppo poco inclinata, se vogliamo adesso sintetizzare in maniera semplice. E questo deriva dal fatto che se noi forziamo ad esempio una retta intercetta sull'origine degli assi, che è quella che noi ci aspetteremmo, come vediamo la correlazione della retta rossa, la correlazione si abbassa un po' perché R quadro è 0,67, 0,68, e di fatto questo errore è principalmente concentrato nella parte di sinistra del grafico. Che vuol dire questo? Che di fatto l'utilizzo di questa mappa ad alta risoluzione europea, per farla semplice e breve, è molto più accurato nella fase destra del grafico, nella parte destra del grafico, cioè nelle aree ad alta impermeabilizzazione, e un po' meno accurato nella parte sinistra del grafico, cioè quella a bassa impermeabilizzazione. Questo qui è spiegabile principalmente con un elemento, con diverse questioni ovviamente, adesso pure qui vado a chiudere, quindi il tempo è rapido, però l'elemento più importante è la minima unità cartografabile. Abbiamo detto che la minima unità cartografabile di questo dato è molto piccola, perché sono 400 metri quadri, quindi assolutamente invidiabile come risoluzione geometrica, però comunque per analizzare questo fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli, anche 400 metri quadri probabilmente possono essere in alcuni casi insufficienti, ed è in alcuni di questi comuni, in particolare quelli dove si assiste alla maggiore dispersione urbana, che effettivamente questi dati sono un po' più discordanti. Quindi questo grafico dimostra proprio questo, perché lo scostamento a sinistra è maggiore dello scostamento a destra, quindi per chiudere il lavoro che adesso andremo a fare l'anno prossimo sarà proprio quello di migliorare questi dati, per fare in modo che questa discordanza sia sempre minore, e quindi questi dati che già sono ampiamente utilizzabili come supporto cartografico a scala locale, possono diventarlo anche per la derivazione di indicatori statistici effettivamente validi e utilizzabili per l'analisi e la valutazione ambientale. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Grazie all'ingegnere Menafo per questa presentazione. Ci sono delle domande? Così io ancora intervengo anche io. Avrei nel titolo, forse per chiarire meglio il contenuto, ho messo aree impermeabili, cioè validazione della mappa europea delle aree impermeabili ad alta risoluzione, delle aree artificiali impermeabili per far comprendere, perché poi la permeabilità esiste anche nelle aree naturali o la impermeabilità. No, non è esattamente corretto. Ve lo siete posto questo problema per far comprendere così all'utilizzatore della mappa? No, in realtà non è esattamente corretto, capisco che la brevità dell'esposizione non aiuta, però effettivamente questa mappa è delle aree impermeabili non soltanto artificiali, nel senso, o meglio, intendiamo esattamente che cosa vogliamo dire con aree artificiali, perché con aree artificiali normalmente si fa riferimento, e immagino di cogliere questo spunto nella sua domanda, alla classe 1 della nomenclatura corinna, ad esempio, cioè tutte le aree artificiali che riguardano le aree urbane. No, io mi riferisco alle aree impermeabili, geologicamente terreni, geologicamente impermeabili, se parlo di impermeabili in senso lato, cioè posso anche pensare a una casa. Cioè, sicuramente non sono ad esempio le superfici compattate da pratiche agricole o impermeabili per, ad esempio, copertura argillosa, non è questo il concetto, ovviamente. Però c'è da dire che l'impermeabilizzazione dei suoli è un qualcosa che è tutt'altro che assente nelle aree naturali, anche l'impermeabilizzazione intesa come copertura artificiale di aree, ma del suolo, ed è ampiamente presente anche in aree naturali, o meglio, che noi intendiamo e classifichiamo normalmente come aree naturali o seminaturali, quindi aree a bosco, aree agricole, addirittura da una nostra stima effettuata sulla base di un confronto fra la nostra rete di monitoraggio e i dati di copertura del suolo a scala nazionale, mi riferisco al Corillen Cover, che ovviamente ha una scala molto più piccola, ma insomma, questo dato che vi sto per fornire fa un po' riflettere, perché addirittura quasi il 5% delle aree a seminativo in Italia ha una copertura artificiale impermeabile del suolo, anche se queste sono aree normalmente classificate come aree agricole o seminaturali, o a seconda delle nomenclature utilizzate. Quindi in realtà questo è un fenomeno che si distribuisce un po' trasversalmente su tante classi di uso del suolo, non soltanto quindi sulle aree artificiali, e proprio per questa ragione nasce questo prodotto che in realtà non va a classificare il territorio sulla base dell'uso o della copertura del suolo, ma va ad analizzare un parametro specifico che per l'appunto si distribuisce in questa maniera trasversale. Ok, la ringrazio. Passiamo all'altra relazione prevista per questa mattina, quindi inviterei il professor Canu dell'Università di Sassari alla presentazione del suo intervento nell'attesa che raggiunga la postazione, così noi abbiamo l'onore questa mattina di avere il nuovo presidente della Sita, quindi ecco, che è stato appunto nominato giusto in questa occasione. E allora prego il professor Scano dell'Università di Sassari di passare alla sua presentazione. Buongiorno a tutti, buongiorno presidente. Presidente, hai ricordato che io sono il nuovo presidente della Sita, però mi piace precisare che comunque sono sempre un professore dell'Università di Sassari e quindi come professore universitario, diciamo, continuo a fare il mio lavoro e continuo a fare, diciamo, quello che ho fatto sempre. Un operatore sul campo, ancora va bene. Un operatore sul campo. Partecipare alla Sita, a parte il piacere della presenza, diciamo, con tanti amici, con tante persone, ma soprattutto dare un contributo per, come dire, per rinforzare quello che è il contenuto appunto dei valori culturali e scientifici della conferenza. Questo lavoro un po' si ricollega anche a quello che ho detto ieri in apertura appunto dall'Assemblea, quando ho parlato di quelle che potrebbero essere le prospettive, diciamo, del prossimo triennio di Asita, laddove tutto quello che è un po' quello che adesso andiamo a vedere, diciamo, e il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadino, impresa, eccetera, potrebbe essere un nuovo scenario che coinvolge direttamente la platea di Asita, considerando da una parte gli espositori con i loro prodotti e dall'altra parte invece i ricercatori che sicuramente si muoveranno per fare in modo che i presupposti dell'agenda digitale italiana, come adesso vedremo, diciamo, possono essere realizzati nel miglior modo possibile. È un lavoro che abbiamo fatto assieme all'autoressa Polda, che è qui con me, ma che per motivi di praticità evidentemente non può essere presente qui. Tutto nasce da un problema, diciamo, no? Che è quello di cui sentiamo parlare in questi giorni, ed è il famoso discorso dello sviluppo italiano, il famoso discorso del ritardo di sviluppo, diciamo, e del perché ci sono questi ritardi. E tutti quanti abbiamo visto che una delle grandi, come dire, colpe, insomma, viene individuata nella burocrazia. Un sistema giudicato ampiamente, come dire, insostenibile, per cui la sostenibilità del sistema burocratico, evidentemente, insomma, diciamo, sarebbe uno degli elementi che potrebbe favorire la ripresa dello sviluppo del Paese. Diciamo, ed è un aspetto su cui tutti al momento stanno mettendo l'attenzione. D'altronde, diciamo, basta guardare alcune stime ufficiali, no? Peraltro dell'ONU, per vedere qual è la considerazione che si ha all'esterno, diciamo, del problema del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. E anche perché a questo tipo di problema molti attribuiscono, come dire, la colpa del fatto che molti investitori stranieri non vengono in Italia, diciamo, investire i loro prodotti, privi del fatto che c'è troppa burocrazia. D'altronde, il fatto che siamo all'87esimo posto per la cosiddetta facilità, in senso generale, di fare impresa, al 77esimo per snellessa e costi necessari per sviluppare impresa, al 93esimo per la facilità nell'ottenere i permessi di costruzione, con ben 285 giorni necessari e un costo triplo rispetto alla metà media e degli altri paesi avanzati, la dice tutta nell'immagine che di noi possono percepire all'estero per quanto riguarda appunto il costo della burocrazia per l'amministrazione. Il problema quindi è sburocratizzare il sistema per favorire la crescita e lo sviluppo. Sono le parole che leggiamo sostanzialmente tutti i giorni sul giornale. sono anche gli aspetti su cui, come avete visto sempre da giornale in quest'ultimo periodo, il governo Monti, diciamo, a partire dagli ultimi, dal decreto, come dire, semplifica Italia fino al secondo decreto sviluppo, stanno ponendo un pochettino l'attenzione. La soluzione, insomma, parte dalla richiesta di sanalimento delle procedure in capo alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini dell'impresa e la trasformazione dell'attuale apparato burocratico, diciamo, in un sistema efficiente che dia risposte veloce ai cittadini. Tra tutte le altre cose, appunto, che si pensa di poter attuare, c'è la razionalizzazione della geografia della distribuzione della banda larga, possiamo usare questa espressione, che poi, in realtà, tecnicamente viene individuato con l'eliminazione del cosiddetto digital divide. Insomma, la soluzione, intravista dal governo, ma su cui mi pare che sostanzialmente si possa essere d'accordo, almeno per quanto ci riguarda, di realineare il Paese, insomma, verso forme di sviluppo, come dire, sostenibili, potrebbe essere anche quella di adeguare la pubblica amministrazione a nuovi standard di efficienza e quindi sburocratizzare e snellire, diciamo così, le procedure relative al territorio. Come? Beh, intanto, con l'introduzione di procedure digitali, anche nelle pratiche inerenti alle attività che hanno come base o riferimento del territorio, o che comunque vi producono effetti, in particolare l'urbanistica, l'edilizia, i lavori pubblici, le retti, i servizi e così via. Naturalmente, noi ci fermiamo solamente per quello che, è l'aspetto che riguarda il territorio, tutto il resto, che è abbastanza importante per la pubblica amministrazione, ma che è più facile anche da, come dire, da gestire, e lo stesso ugualmente è un problema, ma non ci occupiamo assolutamente di questi aspetti. Diciamo che tutto passa poi attraverso le cose che si dicono ad Asita, quindi attraverso, come dire, l'adozione di sistemi che consentono di gestire in maniera più efficiente, più rapida e soprattutto interoperabilità, cioè soprattutto interscambiabile il dato geografico, e quindi di condividere il dato tra amministrazione e cittadina. Per fare questo, naturalmente, considerando gli aspetti dell'amministrazione, che conosciamo bene, occorre un nuovo modello organizzativo, un nuovo modello organizzativo che non tiene conto solamente del fatto che in un'amministrazione può arrivare, cosa ne so, l'ultimo prodotto che ha elaborato la società del collega che mi ha proceduto prima per dire, no, insomma, gli ultimi computer velocissimi, eccetera, ma c'è tutta una procedura, c'è tutto un sistema da mettere a punto che oltre alla tecnologia, diciamo, alle informazioni, eccetera, coinvolge anche, ovviamente, la pubblica amministrazione, deve coinvolgere la struttura della pubblica amministrazione, cioè le persone che lavorano in pubblica amministrazione e, ovviamente, il cittadino. In un rapporto che al momento mi sembrerebbe di dire assolutamente sbilanciato, perché possiamo anche configurare come una sorta di triplice rapporto, magari schematizzato con questo triangolo che vedete, in cui da una parte mettiamo la pubblica amministrazione con tutti i suoi processi, la sua organizzazione, eccetera, dall'altra parte i dati geografici, che sono abbastanza anche questi, come dire, complessi, insomma, però comprendono tutto ciò che viene prodotto dalla pubblica amministrazione, che i cittadini riversano alla pubblica amministrazione e che sono, appunto, i più diversi, come dicevamo prima. E mentre la pubblica amministrazione è quella che produce, in qualche modo, e gestisce il dato geografico, nel senso che è solo lei che controlla, dall'altra parte, diciamo, che i cittadini sono un po' succubi di quella che è l'attività della pubblica amministrazione, nel senso che si deve adeguare a quello che dice la pubblica amministrazione, i risultati sono quelli che abbiamo visto prima. Dall'altra parte, lo stesso cittadino, diciamo, recepisce in maniera passiva quello che sono i dati geografici prodotti dalla pubblica amministrazione, di qualsiasi tipo che si siano, anche quando il cittadino produce dei dati geografici, cioè quando, per esempio, presenta un nuovo progetto di costruzione, eccetera, in qualche modo, però, sappiamo che si deve adeguare quelle che sono le indicazioni della pubblica amministrazione. Quindi c'è questo sbilanciamento negativo a favore del cittadino che potrebbe, diciamo, essere, come dire, recuperato attraverso un'ipotesi di riequilibrio di questo tipo di rapporto che vede il cittadino partecipe, diciamo, in maniera, tra virgolette, non dico paritetica, ma comunque in maniera attiva, in maniera propositiva, anche se vogliamo, nei confronti sia della pubblica amministrazione sia appunto della produzione e gestione del dato geografico. Diciamo che tutto il discorso si inquadra all'interno di un processo anche legislativo, cioè questa presentazione, questo intervento, nasce dal fatto che comunque, se andiamo a guardare che cosa è successo in passato, cosa si sta facendo e cosa è stato fatto, vediamo che ci sono, diciamo, ve li faccio vedere molto velocemente, ci sono degli aspetti che ci consolano, degli aspetti, come dire, legislativi, delle produzioni legislative che ci danno ampie garanzie, si potrebbe dire, insomma, che questo processo deve essere per forza avviato e velocizato e che, come abbiamo visto anche nel secondo decreto sviluppo, varato praticamente ai primi di ottobre di quest'anno, diciamo, deve essere portato a compimento anche in tempi abbastanza rapidi. e c'è comunque tutta una serie di riferimenti appunto legislativi che adesso vedrete velocemente, per dire, che ci garantisce in qualche modo del fatto che le cose stanno comunque cambiando. basta pensare, per esempio, al codice dell'amministrazione digitale, allo stesso, all'integrazione, alla modifica del cosiddetto CAD, alla riorganizzazione del CNIPA in Digitipa, all'ultimo decreto, diciamo, di gennaio del 2010-32, che recepisce la dirittiva INSPIRE, a DPCM il 10 novembre 2011, e questo mi sembra abbastanza importante, soprattutto per le attività di Asita, che dispone le regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto di data base geotopo cartografici, che tutti quanti, probabilmente, gli ospiti di Asita ormai conoscono abbastanza. E poi, diciamo, appunto, in ultima analisi, le produzioni del decreto Monti, che vanno verso questo tipo di, appunto, di soluzione. Peraltro, da quando sono state inviate queste diapositive, al momento in cui ne stiamo parlando, sappiamo tutti che l'agenda digitale italiana è stata varata, addirittura è stato nominato anche il suo direttore, che sarebbe una persona anche abbastanza esperta di questioni di aspetti digitali, e questo ci potrebbe, come dire, consolare. Allora, una ipotesi conclusiva di questa velocissima chiacchierata, però, se qualcuno è interessato ad approfondimenti anche di carattere legislativo, almeno all'interno di quello che stiamo dicendo, c'è la relazione che è già pubblicata sugli atti, quindi è inutile stare a perdere tempo, ecco, un percorso, diciamo così, di chiusura di tutti gli aspetti di cui abbiamo velocemente dato una sintesi, potrebbe essere, come dire, configurato all'interno di questo schema che vedete in proiezione. Cioè, da una parte c'è la raccolta di tutti i dati che sono quelli che riguardano la gestione del territorio da parte di un'amministrazione pubblica, in particolare, come avete visto anche dal titolo, io, come amministrazione pubblica, in questo caso, considerando quello che è l'amministrazione pubblica per il cittadino, diciamo che ci siamo riferiti soprattutto a quelle che sono le amministrazioni più vicine al cittadino, alla fine è il comune quello con cui abbiamo un maggiore interscambio, diciamo, di attività, soprattutto e naturalmente per quanto riguarda il territorio, almeno per quanto ci compete. Per cui, il problema nascerebbe dalla trasformazione di tutti i dati del territorio che riguardano le varie attività che si svolgono all'interno di una pubblica amministrazione, pianificazione, strumenti urbanistici, catastro, edilizia, lavori di urbanizzazione, protezione civile, sorveglianza e controllo del territorio, servizi e mobilità, insomma, diciamo, tutte queste informazioni andrebbero, come dire, destrutturate e inserite nei formati corretti all'interno di un sistema GIS, col che, diciamo, il GIS diventa poi naturalmente il GIS di quell'amministrazione comunale, dopodiché, sapete bene, non c'è bisogno che lo diciamo qua, una volta che uno ha un sistema, diciamo, di questo tipo, caricato e aggiornato con tutti i dati di cui si dispone, diciamo che si può fare di tutto e di più, come si dice. Però, dal GIS si può anche esportare questo tipo di informazione sul web, web GIS, allora, è la soluzione più, come dire, più vicina, oppure addirittura il geoportale, col che anche il cittadino potrebbe essere messo in condivisione del dato territoriale prodotto dalla pubblica amministrazione, come già diceva l'articolo 59 del codice dell'amministrazione digitale, per cui si può iniziare a attivare, diciamo, l'interscambio tra pubblica amministrazione e cittadino. Peraltro, i geoportali di tutte le regioni ormai, il repertorio nazionale dei dati territoriali, di WGTPA, eccetera, eccetera, sono esempi di questo tipo di attività. Questo è il primo passaggio, naturalmente, che presuppone, sto chiudendo, che presuppone, naturalmente, una ristrutturazione anche in senso, come dire, in senso non solamente tecnologico di una pubblica amministrazione, presuppone anche un cambiamento di approccio culturale nei confronti della gestione dei servizi, quindi una, come dire, una formazione del personale che a volte non sempre è molto recettivo, dopodiché passare poi a una fase più evoluta, no, che contempla direttamente la gestione informatizzata o informatica o digitale attraverso poi le firme elettroniche, diciamo, che sono ormai disponibili per tutti con la tessera sanitaria che è diventata carta regionale dei servizi, qui vedete quella che è stata rilasciata dalla regione Sardegna, e quindi avviarsi a quella, come dire, definitiva digitalizzazione del rapporto tra cittadino e pubblico amministrazione che è quello che tutte le norme ormai ci stanno chiudendo. Chiedo scusa se ho fatto un pochettino incavolare il Presidente. Grazie, grazie Presidente per questa presentazione che magari meritava diciamo una presenza sicuramente più nutrita soprattutto da parte di esponenti di pubbliche amministrazioni diciamo e politici in generale che poi gestiscono in qualche modo una responsabilità nella gestione del territorio ma immagino ci saranno altre sedi per questo. Ci sono delle domande da parte del pubblico? Bene, allora io ringrazio anche il Presidente Professor Oscano per la sua presentazione e invito il prossimo relatore che però non so se sarà presente sono tanti i relatori il tema è ricerca di un optimus nell'aggiornamento della carta tecnica regionale numerica e database geografico presso il BIM dell'Adice della provincia di Verona non mi pare ci sia nessuno ci sono ben cinque relatori ma c'è qualcuno allora la ringrazio io ho fatto un po' un appello prima non c'era nessuno mi fa piacere che siate presenti mi può ricordare il suo nome cortesemente sì 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 Buongiorno a tutti, sono l'architetto Narciso Bonuzzi, responsabile tecnico del consorzio Bimadige della provincia di Verona. Buongiorno a tutti, presentiamo una ricerca realizzata all'interno del territorio che ha per titolo ricerca di un ottimo nell'aggiornamento della cartateca regionale numerica e database geografico presso il BIM dell'Adige di Verona. Innanzitutto un pensiero a un coautore del presente intervento, il professor Mario Fondelli, attualmente ricoverato per motivi di salute, e molti di voi immagino l'abbiano conosciuto nella sua lunga attività di professore che si opera in formazione geografico territoriale, è stato collaudatore della nostra carta tecnica regionale numerica e database geografico. Si era appuntato alla data di oggi con l'entusiasmo di un neofita, voleva essere presente per testimoniare, come diceva, l'ultimo lavoro. Purtroppo oggi non è presente, ma gli auguriamo una pronta guarigione. Direi di partire con la presentazione. Il consorzio del bacino in brifero montano dell'Adige di Verona è uno dei tre consorzi del bacino del fiume Adige, le cui acque convergono in un ampio territorio appunto di confluenza di un intero sistema ideografico, ovvero la valle dell'Adige e il lago di Garda. Il consorzio, costituitosi nel 54, è destinatario degli indenizi per i disagi conseguenti alla realizzazione di bacini, impianti per la produzione di energia idroelettrica nelle aree montane, previsti dall'applicazione della legge 959 del 53, la quale prevede un sovracanone a carico dei concessionari di derivazione d'acqua pubblica, finalizzata alla produzione di forze ammottrici. Il consorzio ha una superficie territoriale di circa 107.000 ettari e una popolazione residente di 365.000 abitanti. In coerenza con quanto indicato dalla legge istitutiva, il consorzio nello statuto ha posto, quale obiettivo centrale della propria operatività, l'attivazione di tutte le iniziative e incentivazioni idonee a favorire la salvaguardia dell'ambiente, coniugato allo sviluppo economico-sociale della montagna veronese. Considerate quasi tutte le realtà comunali, ricomprese nell'ambito consortile, sono caratterizzate da territori di modeste dimensioni, con peculiarità altimetriche, tali da comportare, disagi nella fornitura di servizi e nelle attività di controllo. Strutture gestionali a serie dotte, gli uffici tecnici in effetti sono sguarniti o affidati a personale esterno. E poi una conoscenza approssimativa del territorio, conseguente a rilievi parziali, spesso realizzati in modo impreciso e da terzi, con inadeguata competenza. E poi, infine, una cronica carenza di risorse umane e tecnologiche. E' rilevato altresì che per tutti i comuni è vitale la conoscenza puntuale del proprio territorio e la possibilità di seguire nell'evoluzione in tempo reale. Il Consorzio ha realizzato il progetto SERPICO, acronimo di Servizi Permanenti Informativi Comunali. E' un intervento strategico globale di sistema finalizzato a fronteggiare e a risolvere le difficoltà funzionali proprie dei sistemi operativi dei singoli comuni. L'impiego costante e organicamente strutturato di tecnologie innovative al servizio della struttura organizzativa del Consorzio in appoggio alle realtà locali ha consentito di sviluppare sinergie ad alta efficienza, estringente, efficacia e operativa. Ne è nata quindi una sorta di holding tecnico-amministrativa funzionalmente calibrata sulle complesse esigenze di un territorio articolato e multiforme, ancorché sostanzialmente omogeneo sul piano ambientale, morfologico e amministrativo. Dopo la costituzione del polo tecnico presso il Consorzio, ora su infrastruttura cloud, che garantisce nel tempo la raccolta e la diffusione dei dati e servizi ai comuni attraverso il geoportale consortile realizzato con tecnologia open source, è scaturita l'esigenza di aggiornare e innovare i sistemi informativi comunali. In particolare, a conclusione dei lavori di formazione della nuova Carta Tecnica regionale numerica e database geografico, realizzati in collaborazione con la Regione del Veneto, che qui cogliamo l'occasione per ringraziare, e del visualizzatore nadirale prospettico metricamente sensibile denominato Pentaview, siamo incalzati oggi dai comuni per avviare un processo di aggiornamento dei dati cartografici e digitali. Nel geoportale consortile stanno confluendo i dati comunali del software regionale GPE, che sta per gestione pratiche edilizie, dati relativi ai processi di costruzione, relativi ai permessi di costruzione, alle dia, alle scia, eccetera, che i comuni utilizzano quotidianamente nella gestione del flusso edificatorio, urbanistico edilizio. Questi dati consentono da subito individuare dinamicamente l'evoluzione edificatoria e le trasformazioni del territorio comune per comune. Con questa informazione è possibile definire la distribuzione geografica degli interventi e quindi delimitare il progetto di volo per l'aggiornamento del visualizzatore nadirale prospettico Pentaview. Si aggiunge alla precedente informazione una verifica quantitativa automatica dal confronto delle immagini nadirali riprese in date diverse con l'applicazione di algoritmi di change detection in grado di rilevare le variazioni intervenute tra le diverse date di ripresa aerea. Incrociando i risultati delle due analisi si ottiene la reale variazione del territorio che definisce le aree da sottoporre ad aggiornamento. Una prima modalità di aggiornamento per le aree estese, quali ad esempio le aree di lottizzazione, la si affronta con l'editor 3D del prodotto Pentaview che consente di inserire e modificare gli elementi, oggetti di aggiornamento e di corredare gli stessi dei valori di quota e di altezza necessari alla definizione esaustiva del contesto, che vedete in basso nelle prime immagini a sinistra. Una seconda modalità per gli elementi puntuali, quali ad esempio variazioni planimetriche o volumetriche in contesto urbano, per i quali non è ipotizzabile nel breve periodo di una ripresa aerea, si prevede di effettuare misure dirette in campo con strumentazione topografica da affidare a professionisti del settore. Acquisiti quindi tutti i dati necessari all'aggiornamento, gli stessi saranno opportunamente strutturati nel DB topografico con le regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database topografici. Ovviamente tutti gli elementi modificati ne verrà gestita la storicità. Nella tabella che propongo in questa diapositiva sono presentate le misure effettuate a campione su un manufatto edilizio destinato alla residenza, trattato con lo strumento Pentaview. E le relative misure derivate dai dati di progetti presentati in comune e da un'arrivazione diretta effettuata sul campo. Come potete vedere, le discrepanze tra le varie misure confrontate sono comprese entro i 20 centimetri. Precisioni che rientrano ampliamente nelle precisioni richieste dalla produzione cartografica alla scala 1-2.000. Da un'indagine preliminare effettuata presso i Comuni, si ipotizza che le aree significative da aggiornare annualmente nel territorio consortile con la tecnologia Pentaview siano pari a 60 ettari. Mentre gli interventi puntuali da acquisire nei centri storici e centri edificati con l'impiego in modo d'opera professionale esterna sono stimabili in circa 60 rilievi diretti. Ricordo, come dicevo all'inizio, che 28 sono i Comuni, sono Comuni praticamente montani e pedemontani, dove soprattutto in questo periodo l'edificabilità è molto debole. Comunque i vantaggi economici della tecnologia Pentaview sono evidenti. Questa tecnologia offre, in sintesi, la disponibilità di istantanee che rappresentano e certificano lo stato dei luoghi, la riproducibilità e perfazionamento permanente della misura, quindi possiamo ritornare a fare verifiche e approfondire il sistema di misura, l'osservazione e misura degli spazi privati resi inaccessibili da recinzioni, vegetazioni e quant'altro, l'eliminazione della fase di inquadramento, l'eliminazione della fase di ricondizione in campagna. Ecco, ritengo tutti questi vantaggi consentiranno in futuro, a costi, diciamo, credo interessanti, prendere in carico l'aggiornamento cartografico di questo territorio. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a lei per la presentazione e per il rispetto dei tempi. Ci sono delle domande per questa relazione che ha posto dei problemi pratici, concreti? Nessuna domanda? Allora, possiamo andare avanti con l'ultima nostra relazione che è chiamato a presentare il dottor Nebbia Francesco che era presente in... Eccolo lì. Tre anni dopo il terremoto all'Aquila e il monitoraggio di un'emergenza che continua. Chiedo scusa, vi chiedo scusa. No, ho saltato loro, vi ho saltato prima. Allora, facciamo accomodare il nostro relatore. Non ci sono problemi, no? Per voi, immagino. Chiedo scusa. Allora, sì, buongiorno a tutti. Cercherò di essere velocissimo. Sono Francesco Nebbia, vengo da Roma, dall'Università La Sapienza. Ho studiato geografia, gestione e valorizzazione del territorio. Il mio lavoro, il mio contributo di quest'oggi sarebbe in qualche modo dovuto appartenere ad un'altra sessione che era quella del monitoraggio e delle analisi e delle emergenze e degli spazi sensibili. Tuttavia, per motivi di lavoro, ringrazio la segreteria di Asita che mi ha permesso di anticipare il mio lavoro e appunto presentarlo in questa sessione che è cartografia ufficiale e amministrazione del territorio. Più di 200 metri di sedimenti lacustri alluvionali. Ecco cosa condanna l'Aquila a ballare così spesso e ogni tre secoli in media a fare i conti con i terremoti più devastanti. Ho prestato servizio con i Vigili del Fuoco e con la Protezione Civile e con le Misericordie d'Italia durante l'emergenza del 6 aprile. Un terremoto che ha colpito complessivamente 57 comuni di cui 37 in provincia dell'Aquila. Ha coinvolto più di 50.000 persone e oggi nel 2012 a tre anni dal terremoto ancora la periferia dell'Aquila ospita la metà della popolazione residente in quanto un terzo degli abitanti ha abbandonato il centro storico. Il mio lavoro prettamente umanistico prettamente come ha anticipato il moderatore e il professor Di Gregorio sì, un discorso prettamente umanistico che secondo me precede e segue quella che è un'analisi prettamente o meramente tecnica. All'Aquila ci sono stati fenomeni di dispersione abitativa di cambiamento di identità in evoluzione la creazione di nuove realtà urbane e soprattutto le due logiche le due aride logiche che hanno un pochino coinvolto sempre le istituzioni locali che sono quelle della realizzativa cioè realizzare il più possibile e farlo nel più breve tempo possibile. Senza dubbio la prima forma di prevenzione è la costruzione di edifici, ponti, strade e aeroporti che rispettino la normativa antisismica. Pertanto l'analisi dettagliata dei rischi attraverso visualizzatori di immagini da aereo e da satelli delle moderne geotecnologie devono far sì di creare dei modelli virtuali di mondo reale per visualizzare e studiare i fenomeni nello spazio. Queste sono tutte cose che abbiamo già visto nelle altre relazioni quindi non mi dilungo se non il fatto che ci sono di database territoriali che vengono continuamente aggiornati per in qualche modo prevedere lo scenario reale del post-evento. L'analisi geografica può fornire questi sono tutti i moderni strumenti della geografia quindi comunque parliamo degli etas nel caso specifico dei terremoti e dei DTM Digital Terrain Model che appunto sfruttano l'interferometria differenziale della tecnologia radar per studiare le deformazioni crostali. Ecco, quali sono i moderni strumenti della geografia per prevedere nel caso specifico gli eventi sismici? Prevalentemente questi due che possono in qualche modo aiutare per tutto un discorso di previsione per far sì di creare dei modelli nel caso delle sequenze sismiche after shock e main shock queste probabilmente sono cose che alcuni già conoscono quindi non mi dilungo se non il fatto dei modelli digitali del terreno che con l'ausilio dei GIS e qui entriamo nel vivo della sessione alla quale appartengo oggi possono riguardare la cartografia e la gestione dei rischi sul territorio la cartografia per tutta una serie di motivi che vediamo elencati e soprattutto per la valutazione grafica tridimensionale dello scenario di danno attese e di quello di danno reale mentre per la gestione dei rischi sul territorio prevalentemente per tutta una serie di discorsi che guarda la microzonazione la diminuzione delle vulnerabilità del patrimonio del patrimonio edilizio del patrimonio delle aree sensibili qui entro nella mia penultima slide che vi parla un pochino del dettagliato resoconto delle attività di soccorso svolte nei primi mesi dell'emergenza sismica in Abruzzo e qui ho riportato lungo questa linea temporale esattamente cosa è successo prendendo i dati prevalentemente dalla protezione civile anche basandomi sui 140 questionari e sul documentario che ho realizzato poi all'Aquila tutti gli aspetti più importanti quindi quelli più immediati che possiamo vedere nell'aprile 2009 c'erano 70.000 sfollati nell'aprile 2010 erano stati realizzati 4.500 appartamenti in 183 edifici per sole tra virgolette 18.000 persone a due anni dal sisma erano stati spesi 700 milioni di euro e a tre anni dal sisma 3,5 miliardi e il 52% degli edifici privati risultava appunto agibili e vabbè insomma poi le statistiche le vediamo lì però quello che conta è il dato la spesa perché nonostante sia stato speso tanto ancora purtroppo c'è moltissimo da fare l'ultima slide ecco io ho realizzato 140 questionari cosa ha detto la gente perché poi questo quello che il geografo dovrebbe valorizzare negli aspetti umani sociali economici che ci sono da prevedere o da studiare in una determinata area le statistiche le vedete qui la descrizione della vita in tenda nel posto immediato al sisma 50% degli intervissati molto difficile 23% accettabile 12% insostenibile senza che le leggiamo tutte possiamo brevemente vedere diciamo le frasi conclusive di ogni di ogni statistica cioè che il 70% degli intervistati non ha espresso un parere positivo su quanto è stato fatto effettivamente all'Aquila a 24 mesi dal sisma su 50 intervistati a due anni dal sisma ben 13 persone non sanno come comportarsi ancora in caso di emergenza e questo è ancora un aspetto negativo emergenza urgenza abitativa è una questione ancora di estrema attualità ci sono persone che purtroppo ancora vivono in sistemazioni provvisorie che non sono affatto definitive o comunque secondo le promesse fatte ho attivato un corso di educazione sismica in una scuola e anche qui ho realizzato 150 verifiche e le persone i ragazzi l'88% degli intervistati ha espresso un parere positivo per il finanziamento e la realizzazione dei corsi di educazione sismica nelle scuole questa è una foto con la quale concludevo le mie lezioni a scuola quindi comunque il simbolo di pericolo di due ragazzi che nel cartello stradale vediamo era molto significativo per dei ragazzi che si approcciavano per la prima volta nella loro vita ad approfondire o analizzare aspetti di questo tipo concludiamo dicendo che diventa prioritario leggere il disastro come un evento che ha avuto molteplici conseguenze si deve avere cura di questi spazi che sono appunto quelli dell'Aquila distrutta dal sisma ci si deve adoperare verso un'azione di confronto con i nuovi oggetti e soggetti urbani che sono frutto di un'inevitabile quanto indispensabile trasformazione del territorio se oggi la vita all'Aquila è ripresa c'è un piano di ricostruzione che purtroppo stenta ancora a decollare e a tre anni dal sisma più di tre anni molte attività commerciali sono state decentrate e diverse persone sono ancora senza casa grazie grazie al dottor Nebbia per questa presentazione che comunque si colloca anche bene nella nostra sessione e che va a coprire quello spazio di interfaccia appunto tra gli esperti i ricercatori i soggetti gli attori che operano sul territorio e il cittadino che non deve essere mai trascurata ci sono delle domande su questo intervento bene no allora andiamo alla ultima presentazione mi scuso appunto con i redatori per aver saltato questo è il numero quattro e presenterà la dottoressa Furlanetto presenterà lei il tema dell'intervento questa è l'ultima relazione della mattinata allora l'argomento di questa comunicazione le banche dati gearcheologiche della laguna della città di Venezia in realtà non si parlerà solo di banche dati ma anche di un progetto che è in via di definizione di avvio su una riunificazione e una banca dati unica della laguna la premessa indispensabile per poter parlare di banche dati e della situazione attuale è parlare illustrare l'archeologia lo stato di fatto dell'archeologia della laguna di Venezia che è una storia molto recente a differenza di altri ambienti come ovvio perché la laguna è un ambiente del tutto originale particolare definito organismo delicato non da oggi quindi da sempre è stato un organismo delicato e hanno condizionato pesantemente la nascita e lo sviluppo dell'archeologia due aspetti fondamentali il primo l'urbanizzazione soprattutto della città di Venezia e un ambiente anfibio che comunque è molto difficile da indagare hanno reso molto difficile il riconoscere le tracce del mondo antico ma l'altra cosa che ha pesato è una radicata convinzione che la laguna di Venezia sia stata sempre uguale e quindi nel mondo antico la laguna attuale fosse simile alla laguna antica e non fosse abitata per cui quando sono stati venivano ritrovati dei frammenti venivano sempre valutati sono sempre stati valutati ma fino agli anni 90 del ventesimo secolo come materiale da cava proveniente dal tino che è il centro più importante alle foci del sile centro di età del ferro e di età romana e quindi questo ha spostato e ha condizionato la storia dell'archeologia per cui la storia dell'archeologia come vi dicevo è una storia recente questa potrebbe essere definita la prima carta archeologica come vedete risale al 1881 tre siti per la prima volta questo signore Urbani de Geltof con una diciamo illuminata approccio all'archeologia ne dava la stratigrafia di tre siti in centro a Venezia la prima carta archeologica vera e propria nasce invece nel 1990 grazie ai ritrovamenti di 40 anni di ricerche di un pioniere dell'archeologia veneziana Ernesto canale che da perfetto autodidatta ha avuto il primo approccio in tempi veramente non sospetti un approccio metodologico che per noi adesso è assolutamente normale e imprescindibile ma per gli anni 60 gli anni 50 era una novità assoluta si è occupato non solo dell'archeologia di Venezia della laguna ma ha indagato discipline e settori diversi dalla geomorfologia alla cartografia storica in maniera assolutamente scientifica la prima carta archeologica dimostra rivelerà una laguna sfattando l'opinione corrente una laguna molto diversa in età antica e nelle varie età da quella attuale e una laguna densamente abitata la laguna subirà adesso che possiamo dirlo con sicurezza dalla preistoria ad oggi ha subito fasi di emersione quasi totale con una riduzione consistente di spazio anfibio e emersione e quindi insediamento stabile a periodi di sommersione e quindi di non occupazione l'opera di Canal viene consacrata da un libro del 1984 di Vladimir Odorigo professore all'università di Venezia che dà conto e dà credito di questi ritrovamenti da questo momento nasce l'archeologia veneziana Nausica è il centro subacqueo della soprintendenza archeologica che in vent'anni di attività come vedete ha compiuto 1500 interventi e recuperato un milione di reperti questo scavo l'isola di San Marco in Moccalama è il più eclatante questa splendida foto mostra come si è la perimetrazione di un'isola di una parte di isola che non esiste più San Marco in Moccalama questa era una segnalazione di Canal degli anni 80 nel 2001 viene effettuato questo scavo che diventa famoso in tutto il mondo perché vengono recuperate una galea e una rascona medievali che si riveleranno essere un tentativo di arginare un'erosione che minacciava l'isola e che porterà la sua inarrestabile scomparsa e quindi vengono affondate sulle rive per tentare di arginare entriamo nel vivo del progetto e della situazione banche dati questo progetto si chiama Laguna Omnia e naturalmente non può prescindere da nessun progetto attuale da utilizzare un approccio assolutamente inter e multidisciplinare quindi ci sono vari specialisti non ci si occupa più solo di archeologia ma di cartografia storica georiferita di dati geoambientali della geologia abbiamo a disposizione per la Laguna di Venezia molti strumenti di elevato livello tecnico scientifico la prima è la carta geomorfologica della provincia del 2004 a cui è seguita la carta delle unità che ha approfondito gli aspetti della carta geomorfologica del 2009 nel 2012 è stata pubblicata una carta di unità di paesaggio geoarcheologico poi abbiamo un database cartografico su 7500 esemplari esaminati di 350 carte storiche un campione rappresentativo ben diciamo organizzato e non è solo un database di cartografia quindi un'analisi puntuale di queste carte ma ha portato in dieci anni alla ricostruzione alla georeferenziazione di carte del 15 del 16 e 17 secolo e attraverso la digitalizzazione tutto un lavoro di studio e confronto di ogni elemento alla ricostruzione della laguna del territorio di Gronda nel 16 e 17 secolo i database esistenti oggi in parte utilizzati archeologici sono due uno che riguarda è stato il primo del 1990 che ha 270 schede purtroppo ora molte lacunose perché all'epoca i dati e le conoscenze non erano quelli di oggi e il successivo che è il database di Ernesto Canal che racchiude tutte le informazioni di 60 anni di lavoro se non fosse stato realizzato tutte queste informazioni con la sua scomparsa sarebbero andate perse il database del progetto ha dei requisiti di non essere solo una carta archeologica tradizionale che adesso si è visto non servono più le carte archeologiche puntiformi di essere comunque un censimento del noto e del non conosciuto cioè dell'inedito di dover essere per forza un database relazionale associato a un GIS ma ha dovuto tener conto in maniera molto pesante delle applicazioni adesso non si può più ignorare che le amministrazioni la gestione del territorio ha bisogno di strumenti che servano sul serio e quindi carte di erosione carte di rischio di erosione carte di potenzialità archeologica le caratteristiche quindi dovevano essere un'omogeneizzazione dei dati in modo da renderli confrontabili un linguaggio comune quindi l'adeguamento a campi di altre banche dati come quella il modello Modi che adesso è in via di sperimentazione dall'istituto centrale del restauro e del progetto Archeomar nel quale probabilmente confluirà questo progetto che è il censimento delle aree sommersi di essere comunque un'open data perché l'accessibilità dei dati mentre fino ad oggi l'archeologia sembrava una cosa riservata a pochi e ha un aspetto diverso rispetto alle carte tradizionali perché si occupa di un arco cronologico molto ampio dalla preistoria ai giorni nostri di solito le carte archeologiche non superano l'età medievale e hanno grossi problemi anche per quella la scheda informatizzata sulla quale non mi dilungo perché le schede sono più o meno sempre quelle cioè variano i campi ma non è quello l'importante ha sia gli aspetti identificativi che interpretativi ha solo diciamo due novità un inquadramento geomorfologico che per noi è possibile perché abbiamo i formati digitali la carta delle unità geologiche e la carta geomorfologica quindi abbiamo la possibilità di avere tutti i livelli informativi dossi paleoalvei da poter inserire e un riferimento puntuale alla cartografia storica che supera quello che è di solito il riferimento di solito si fa riferimento uno stralcio a una serie di carte noi avendo il database imago abbiamo la possibilità non solo di avere puntuali una scansione cronologica diacronica di tutte le carte del territorio del sito ma anche di poter importare l'elemento e la paleoidrografia ricostruita per la metà del quindicesimo la fine la metà del sedicesimo e la fine del sedici poi a corredo tutto quello che è la documentazione grafica e fotografica e i dati paleoambientali i database come vi dicevo sono due uno appunto del consorzio che è il primo e il database canal vi faccio vedere rapidamente queste immagini sono associati naturalmente con link in collegamento ipertestuale la bibliografia digitale la documentazione il database che noi vorremmo il prodotto finale sarà un database che ha visto la riunificazione dopo verifica e controllo di tutti i dati dei due database esistenti e a cui verranno aggiunta la redazione di 1500 siti che sono i nuovi siti peraltro per il 90% inediti i 95 che sono stati identificati in questi ultimi 20 anni quindi il database non sarà solo un database archeologico ma avrà la possibilità di avere tutte le discipline che concorrono alla ricostruzione territoriale alla fine avremo una banca dati di 2000 siti la cosa importante come dicevo di un database un database è un catasto un censimento il problema è l'uso e l'utilizzo in prospettiva quindi di non essere solo un database relazionale di avere tutti i database associati quindi di cartografia di banche dati di carotaggi di C14 ma di avere la possibilità di elaborare cartografia in formato sia digitale che cartaceo a qualsiasi scala tematica sia sincronica che diacronica e di qualsiasi tipo per finire vi faccio vedere due esempi di ricostruzione territoriale che si ottengono con un tipo di database così il primo è siamo alle foci del Sile nella zona di Catron tra Sile e Piave molto vicini ad Altino uno scavo la geomorfologia nella carta geomorfologica del 2004 aveva evidenziato tramite fotointerpretazione la presenza di un paleoalveo e gli studi archeologici combinati sempre con la fotointerpretazione hanno permesso di riportare in carta di identificare e cartografare il percorso della via Ania una strada della metà del secondo secolo avanti Cristo 132-131 per tutta la lunghezza da Adria fino a Aquileia nell'intersezione della strada con il paleoalveo è stato deciso ha scavato l'università di Padova con la professoressa Ghedini il gruppo della professoressa Ghedini e è stato rinvenuto un ponte che si è rivelato straordinario per l'età il primo dei ponti dell'età del bronzo e quindi ha confermato il tracciato di questa strada molto prima di quanto si pensasse l'immagine faceva vedere come a questo i dati paleoambientali hanno concorso a ricostruire il paesaggio noi possiamo con i pollini con esami paleoambientali vedere come confermare integrare il dato archeologico e quindi vedere la presenza dell'uomo o l'assenza ma non solo la presenza ma anche la sua attività e le caratteristiche di questa attività quindi aree boschive tipi di aree vegetate e coltivazioni o allevamento la seconda immagine riguarda qui c'è la laguna di Venezia cioè è la parte centrale della laguna di Venezia con l'isola con Venezia e davanti maestre anche qui in questa immagine abbiamo cartografato vari elementi da discipline diverse allora i dossi in giallo i paleoalvi in scusate i dossi in rosa i paleoalvi in giallo dalla fotointerpretazione dei carotaggi indicano la presenza dei dei percorsi antichi del Brenta in epoca pleistocenica nel pleistocene già disattivati nell'olocene quando c'è la comparsa dell'uomo probabilmente occupati da acque di ruscellamento superficiale sempre questo è il percorso della Viania di cui vi dicevo prima che appunto si rivelerà un percorso molto più antico del previsto i siti archeologici che ci fanno da indicatori e da segnalatori della presenza della strada e ci permettono anche di dare delle indicazioni di popolamento antico come vedete il popolamento si distribuisce lungo questa strada e nei pressi del margine antico questo margine interno lagunare che vedete essere molto più avanzato rispetto all'attuale deriva dagli studi di cartografia storica siamo riusciti a isolare e a georiferire da tutta una serie di carte del 1500 il margine delle carte e l'abbiamo riportato e digitalizzato con dei sistemi sempre più piccoli di aree che poi sono state incernierate e è stato inserito in carta potrebbe essere molto discutibile mettere un margine interno del 1500 ma dagli studi e dagli incroci dei dati archeologici di età romana di età del bronzo dell'età del ferro insomma e da tutto altri tipi di studi è emerso che la laguna del 1540 50 è molto simile alla laguna di età romana che era emersa per due terzi e aveva un ridotto spazio acqueo quindi questa è una forzatura per capire di più com'era il territorio quello che vedete in arancione è la linea dei lidi antichi desunta da carotaggi quindi molto arretrata con Santerasmo che è un lacerto di questa questo è il margine lagunare è la tecnica vedete questa è una carta del 1547 e la digitalizzazione è in evidenza in margine interno lagunare questo per mostrarvi come adesso l'area che una volta era occupata da terra emersa è laguna per finire questa carta è stata presentata a una mostra del sabadino a Chioggia due anni fa nel 2010 e fa vedere una foto satellitare e la digitalizzazione di una carta storica della metà del 500 che mostra in giallo i dossi olocenici del Brenta gli ultimi percorsi del Brenta e sempre in giallo in basso ci sono gli antichi lidi che mostrano come la bonifica delta Brenta è un'opera cioè è un accrescimento recente degli ultimi 500 anni abbiamo chiusura grazie io la ringrazio per questa interessante presentazione e per l'enfasi data all'approccio multidisciplinare interdisciplinare diacronico non v'è dubbio che in aree così interessanti e così esposte ai cambiamenti nel corso del tempo e per effetto delle azioni dell'uomo anche per effetto del cambiamento naturale per cambiamento del livello del mare nella laguna dall'epoca romana o preromana ad oggi quindi cambiamenti dei livelli sensibili e certamente presentano delle difficoltà di lettura di analisi che mi pare però che l'approccio che si è tentato di porre cerca di risolvere in maniera adeguata così mi pare io ho conoscenza di questi approcci in particolare di alcuni gruppi di ricerca anche dell'università di Padova per delle collaborazioni avute con con il professor Jacopo Bonetto in altre realtà lagunari per esempio nella laguna di Nora ma insomma noi abbiamo in Sardegna in particolare diverse lagune dove sono ritrovamenti che risalgono all'epoca fenicia all'epoca punica all'epoca romana e queste aree sono ricchissime di reperti di insidiamente non ancora dettagliatamente studiate fortunatamente così a Venezia ci sono molte cose ci sono anche molte attenzioni grazie a Dio ci sono molte informazioni e ci sono anche gruppi di ricercatori adeguati per affrontare queste tematiche ci sono delle domande in relazione a questo argomento nulla allora io ringrazio tutti i relatori ringrazio tutti voi per la cortese attenzione mi pare che abbiamo visto cose interessanti dal punto di vista della ricerca dei metodi di approfondimento ma anche dal punto di vista del trasferimento poi del dato dell'informazione agli utenti pubblici e ai cittadini quindi vi ringrazio in particolare ringrazio i relatori per il loro impegno buona giornata ringrazio i relatori per la cortese attenzione per la cortese attenzione ringrazio i relatori per la cortese attenzione per la cortese attenzione